Nel 1994 ha fondato Emergency, un'associazione che in questi anni ha offerto cure gratuite ad oltre 10 milioni di persone vittime della guerra. Lo accompagnerà su questo palco Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera. È un grandissimo onore per Campus Party. Fate un grandissimo applauso a Gino Strada. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie mille di essere qua. Per me è sempre un piacere, è sempre un momento interessante anche di ispirazione e intervistare il dottor Gino perché il dottor Gino quest'anno, che non ha certo bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, quest'anno ha portato Emergency, la sua ONG, un ONG che possiamo dire è sicuramente un'eccellenza italiana e qualcosa di cui andare orgogliosi nel mondo, l'ha portata 25 anni. E allora a me piacerebbe che oggi qua lui ci raccontasse come è nata l'idea di Emergency, come nasce Emergency e poi cerchiamo anche di strappargli una speranza o qualcosa per il futuro di cui sicuramente abbiamo bisogno tutti, avete bisogno soprattutto voi. quindi dottor Gino Iuti che dopo non vedi tutto qual è, insomma, di raccontare qua la nascita di Emergency perché è qualcosa, e poi ne parliamo magari dopo, è qualcosa a cui forse soprattutto di questi tempi cerchiamo anche di aggrapparci per trovare un senso di fronte a tutte queste parole che sentiamo, anche messaggi contrastanti e di odio anche. Si sente, sì. Come è nata Emergency ha una risposta semplice, è nata come tante cose nella vita da un incontro, un incontro con i feriti di guerra. Io trent'anni fa facendo il mio mestiere di chirurgo avevo scelto di girare con la Croce Rossa internazionale di Ginevra a fare il chirurgo nella zona di guerra e quella cosa lì mi è rimasta dentro. Perché? Perché c'era comunque una sproporzione enorme tra i bisogni e il tipo di aiuto che noi potevamo dare. sarebbero servite cento, mille organizzazioni come la Croce Rossa ad aiutare i feriti di guerra. E così è nata l'idea di dare una mano anche noi, di raccogliere un po' di amici professionisti, di rimboccarci le maniche e fare qualcosa. Perché? Veramente perché credo che sia meglio farlo che non farlo, perché credo che se usciamo di qua e vediamo una persona stesa per terra che perde sangue sia meglio occuparsene che non girarsi dall'altra parte. E questa è niente di più, credo, sia stata la spinta a dar vita a Emergency. A quei tempi non si parlava tra di noi, non parlavamo di guerra, non parlavamo di pace, non parlavamo di Costituzione, non parlavamo di diritti umani. Quindi ci preoccupavamo solo di curare più persone possibili e meglio possibile. Questa cosa per me è stata importante perché senza quella pratica probabilmente Emergency non si sarebbe sviluppata. Poi nel corso degli anni ci siamo, almeno parlo per quella che è la mia generazione, però ci siamo anche ad abituati, oltre a vedere l'impegno di Emergency sul campo, ci siamo anche abituati a vedere l'impegno di Emergency anche per quella che era la parte, diciamo, più politica. E quindi anche la parte che è intesa non tanto quanto partecipazione alla vita politica, ma quanto impegno per cambiare quelle che ad esempio erano, e in qualche modo anche questo siete riusciti a fare, anche quelle che erano le norme del diritto italiano o della legge italiana nello scenario internazionale. Penso ad esempio al fatto che, sì, l'Italia è una repubblica che ripudia la guerra come strumento, però comunque poi abbiamo visto l'Italia partecipare a dei conflitti. Ripudia però la fa. Esatto. E in questo anche, si è aggiunto, oltre all'impegno di medici, c'è anche qualcos'altro? Cioè c'è anche qualcosa che poi Emergency in questi anni ci ha lasciato e ci lascia? Sì, sì, io credo sia un processo perché quando si passano anni e anni in situazioni di conflitto ci si pone necessariamente anche delle domande. credo che, a parte qualche deficiente che poi di solito va a finire in un ministero, per il resto sia naturale che la gente si ponga domande su perché succedono queste cose. e va a finire che ci si dà anche delle risposte. La risposta per noi è stata, da un lato, il capire profondamente l'assurdità, la falsità, il non senso della guerra, non solo la sua crudeltà, ma proprio il non senso. E cercare di capire come mai il non senso stia diventando la politica corrente. e poi direi che quella riflessione ci ha portato anche a capire come fare meglio il nostro lavoro perché parliamoci chiaro, aiutare quelli che con Niro Lagaccio si chiamavano i poveri negretti, non è un gioco, non è neanche un hobby, non può esserlo, tantomeno può essere fonte di profitto. Ha una cosa che non va mai dimenticata, che si tratta di persone come noi, di diritti umani che appartengono agli umani. Noi che siamo molto democratici in Italia, ne facciamo dono anche a qualche umanoide, ma insomma, direi che ci sono dei diritti fondamentali che ci appartengono. Ora, perché bisogna curare un europeo in un modo, un africano in un altro? Io non ci vedo una ragione. Perché un cittadino europeo se non sta bene ha la possibilità di fare un esame diagnostico entro due ore? Un cittadino africano o del sud del mondo, perché non c'è solo l'Africa, non ha questa possibilità. E allora, come dire, ancorare il nostro lavoro al rispetto dei diritti umani per tutti è stato un passo per noi culturalmente importante. La cosa che dicevi appunto del fatto di non riuscire a considerare l'altro come un essere umano con uguali diritti è un tema che abbiamo visto anche ritornare fuori tantissimo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno in Italia e non solo, associato anche al dibattito della chiusura delle frontiere e al discorso della migrazione. Contemporaneamente abbiamo visto anche la criminalizzazione di chi aiuta e chi si impegna per far sì che i diritti di chi arriva siano uguali a quelli o di chi comunque non è nelle stesse nostre condizioni siano uguali, ad esempio il diritto all'accesso alla medicina. Questo è qualcosa che ha disorientato, credo disorienta molto, perché comunque ti lascia a meno per quanto mi riguarda ti ribalta completamente qualcosa che tendenzialmente davamo per assodato. Allora quello che ti chiedo è se la risposta quale può essere, cioè può essere l'impegno sul campo, può essere il fatto invece di dover tornare indietro, di dover ancora difendere, ritornare a difendere qualcosa che davamo per assodato, qualcosa per cui la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo la davamo come dire per assodato, evidentemente non è così. Secondo me è un discorso che richiederebbe un'analisi lunghissima. Io ho questa impressione che oggi si stia perdendo un po' ogni riferimento e mi stupisco di una cosa che mentre noi siamo riusciti, noi intendo dire la nostra specie, siamo riusciti a fare progressi enormi nel campo della medicina, nel campo della fisica, della chimica, della tecnologia, nel campo dell'informatica, in quasi tutti i campi in cui ci impegniamo. L'unico campo in cui mi sembra non abbiamo fatto progressi è stato il campo etico. Forse perché non ci impegniamo, perché si crede che l'etica sia come dire una suppellettile, una cosa di troppo, mentre invece è il fondamento del nostro vivere insieme. Noi potremmo essere ultra, extra, iperconnetti, connessi, ma se non c'è etica la connessione lì serve a niente. E quando dico etica intendo dire in primo luogo il modo in cui vediamo, immaginiamo e poi pratichiamo il nostro essere insieme. E questo è sconvolgente perché come facciamo noi a continuare a tollerare l'esistenza della guerra tra di noi sul nostro pianeta? tollerarne l'esistenza tendo a dire che siamo rimasti l'ultima specie a fare la guerra. Non ce n'è un'altra. Non ce n'è un'altra. Ma neanche gli animali più aggressivi si mettono in fila per quattro e viaggiano nel reggimento a distruggere allevamenti di polli. L'uomo continua a fare la guerra e continua a fare la guerra nonostante una montagna enorme di evidenza che la guerra è tutto ciò che può significare il male o che può incarnare il male. Il male per noi non è solo come dire stupida la guerra è crudele è antieconomica è un boomerang è una è una cosa che non è soltanto omicida ma è anche una follia suicida. Oggi noi siamo di fronte a un pianeta che viene come dire il cui futuro viene messo in discussione da molti secondo me ha ragione e non arriviamo ancora a capire che se non smettiamo di ammazzarci tra di noi se non smettiamo questo omicidio suicidio andiamo dritti verso la fine. Vorrei ricordare che per quest'anno sul bulletin Atomic Scientist hanno fissato l'orologio di mezzanotte l'orologio della mezzanotte l'hanno fissato a due minuti dalla mezzanotte ora quell'orologio lì è empirico è un modo di dire quanto siamo vicini all'inverno nucleare cioè alla fine ci siamo vicini cinque minuti o ci siamo vicini tre ore per cui possiamo magari prendercela con calma l'orologio non è mai stato messo a due minuti mai neanche all'indomani delle bombe di Hiroshima e Nagasaki perché gli scienziati atomici nel bollettino pongono questa final call chiamiamola così sostanzialmente per due motivi il pericolo di una guerra termonucleare che ovviamente con una militarizzazione crescente e con una bellicosità crescente diventa più probabile e i cambiamenti climatici del pianeta che noi stiamo distruggendo queste sono le forme di guerra che noi ci facciamo facciamo la guerra tra di noi e facciamo la guerra al nostro habitat io credo che realisticamente una specie che si comporta così è destinata all'estinzione poi come questa avverrà non lo so ma è un po' come la specie in cui insomma i genitori mangiano i propri cuccioli e quello della guerra resta tema centrale assolutamente centrale oggi non si riesce a capire da un punto di vista etico e anche da un punto di vista proprio logico che noi la guerra non possiamo più permettercela non è questione di come uno la pensa chi pensa sia meglio Kim Sung-Kin o Donald Trump lì siamo nel deserto dei tartari comunque per quanto riguarda i neuroni il problema è che non possiamo più permettercela perché chiunque la fa potrebbe essere la fine per tutti ricordiamoci la famosa frase di Einstein non so come si combatterà la terza guerra mondiale ma la quarta si farà con la clava noi siamo a quel periodo lì a quel punto lì e ancora non è scattato dai cittadini l'allarme ed è un allarme che dovrebbe suonare pressoché in continuazione fino a che non riusciamo a fare qualcosa questa è una generazione la nostra che è cresciuta comunque tendenzialmente in pace in Europa la sensazione però appunto come dicevi giustamente tu è sempre di più che il pericolo di una guerra si avvicini insomma lo si percepisce sempre di più i campanelli di allarme appunto suonano nonostante questo comunque stanno vincendo e stanno avanzando nel mondo schieramenti politici che sostanzialmente non 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 propongono almeno come dire o quantomeno magari non lo dichiarano apertamente però tra le righe il concetto è quello di sicuro non mettono sul piatto penso anche alla Russia non mettono sul piatto sicuramente uno scenario di pace o di stabilizzazione ma anzi al contrario di come dire chiusura delle frontiere contemporaneamente di espansione dei propri interessi questo perché succede perché non riusciamo a renderci conto di che cosa ci sta capitando intorno perché non vediamo coi nostri occhi a volte come dire quando soprattutto capita a me personalmente per lavoro di vedere gli effetti delle guerre dei conflitti di quello che sta capitando sul campo mi chiedo forse perché non se uno vedesse coi propri occhi magari cambierebbe posizione oppure no oppure qualcosa che come dire l'egoismo prevale inevitabilmente su quello che è invece un discorso più razionale di lungo periodo che dovrebbe essere e dovrebbe portarci a come dire all'autotutela che cos'è penso anche magari alla tecnologia forse visto che poi di questo qua si parla anche io faccio il chirurgo e non mi piacciono i tuttologi ne ho sentiti troppo in vita via quando uno di mestiere fa il tuttologo di solito va a finire che spara cagate però su questa questione della guerra io credo che noi dobbiamo abituarci a pensare come suggeriva Einstein in un modo nuovo pensare in un modo nuovo voleva dire pensare in un mondo atomico allora in un mondo atomico come quello in cui noi siamo non ci sono più i processi la Germania che va a destra la Francia che va a sinistra questi qua che fanno i nazionalisti questi qua che fanno i leghisti nel mondo atomico la storia può essere decisa da un click ed è finita lì e se oggi andiamo a vedere chi ha davvero i bottoni con quei click c'è da metterci le mani nei capelli ma per la qualità delle persone prima ancora che per la spaventosa capacità distruttiva degli ordini è che non ti mette tranquillo e come facciamo ad essere tranquilli cioè qui si parla si blattera tanto villaggio globale mondo connesso siamo un villaggio tutti uno beh in questo villaggio però io sono convinto che la stragrande maggioranza degli abitanti non vuole neanche sentir parlare della guerra e però tutti i governanti di questo villaggio i più chi meno chi oggi chi domani la fanno e come si fa a fargli capire che i cittadini cioè i loro tra virgolette governati la pensano diversamente sarebbe un bel un bel passo avanti anche perché i nostri governanti amano tenerci abbastanza come dire quando io ero ragazzo si diceva nella bambagia per dire un po' lì in sordina insomma non molto svegli i nostri governanti non ci raccontano per esempio che l'Italia è uno dei firmatari del trattato di rinuncia alla guerra di Parigi del 1929 firmato sottoscritto ancora valido firmato da un ministro di Mussolini l'Italia ha rinunciato alla guerra ben prima della Costituzione come? la guerra è stata abolita nel mondo sì la guerra è stata abolita nel mondo con quel trattato formalmente sottoscritto da tutti i paesi che poi fanno più nemmeno come fa l'Italia ripudiano la guerra e la fanno semplice andate a leggervi il testo del trattato nel 1928 il trattato di Parigi Kellogg Aristide Briand ministro degli esteri francese e segretario di Stato americano ed è evidente la rinuncia alla guerra chiara non vogliamo più farla c'era ancora allora forse il ricordo di quel macello della prima guerra mondiale che è stato niente in confronto alla seconda e se andate avanti così a ricordare che questa era la legislazione internazionale non si volevano più conflitti per questa ragione è stata fatta la carta delle Nazioni Unite sono state create le Nazioni Unite il testo del preambolo della Costituzione delle Nazioni Unite dice per evitare alle future generazioni il flagello della guerra quante centinaia di guerre ci sono state dopo e perché continuano ad esserci le guerre perché i cittadini non hanno ancora trovato il modo di far sentire la propria opinione perché faccio un esempio banale in Italia quando l'Italia decise di entrare in guerra contro l'Afghanistan il Parlamento italiano tranquillo bello sinistra destra centro il 92% votò a favore e quando il 92% di un Parlamento viola la propria Costituzione come diceva un amico mio so cazzi e questo è un punto due anni dopo con l'Iraq ci furono tre milioni di persone in piazza contro la guerra forse la più grande manifestazione contro la guerra della storia ma i politici di destra di sinistra sono andati avanti ecco se invece che 30 milioni che 3 milioni in piazza fossero stati 30 milioni o fossero stati 40 50 milioni di persone che facevano sapere al Parlamento e al governo che non ce n'era la guerra non si fa forse sarebbe andata diversamente come si come si fa io lo chiedo a voi perché io sono un vecchio chirurgo di 70 anni per me il computer è una macchina da scrivere veloce insomma arrivo ecco a gestire le mail ogni tanto ma non di più ma per esempio con tutta la tecnologia per cui sappiamo io guardo i telefilm che mi piacciono c'è c'è un omicidio in un paesino dell'Ohio c'è di uno attaccato a un computer cazzo in 20 secondi sa che il numero ha di scarpe il sospetto assassino ma come è possibile e non siamo capaci di far sapere ai vari presidenti dei consigli delle repubbliche eccetera eccetera che il 99,98% dei suoi cittadini a parte qualche imbecille è contrario alla guerra come facciamo sarà possibile beh ad esempio emergessi un po' c'è riuscita perché no no io qui parlo di milioni di persone parlo di 50 milioni di persone stiamo fantasticando parlo di milioni di persone che in Italia dicono ah sì io non pago più le tasse non perché io sono un evasore perché io un governo che non mi garantisce che non va a spenderli per la guerra non glieli do se lo fanno se lo fanno in 10 milioni di persone in Italia è sicuro che ne vediamo delle belle ma poi effettivamente chi sappiamo perché andiamo in guerra no? sì lo sappiamo benissimo dai le guerre si fanno o per ricchezza o per potere ma poi oppure c'è la variante italiana per cui si fanno anche perché si ha le caculi e allora questo è un altro discorso ma di solito o danaro o potere o un misto dei due parlo dei cittadini i cittadini lo sanno molto spesso ne parlavamo anche prima non sanno neanche citavamo ma anche i governanti non sanno neanche dove sono i paesi dove vanno in guerra citavamo l'esempio posso testimoniare di aver assistito governanti che avrebbero piazzato Milano più o meno nel nord ovest dell'Ucraina è così però il problema vero è come è come raccogliere l'opinione dei cittadini perché io sono sicuro che a parte qualche malato di mente ma malato in senso clinico come si fa a trovare qualcuno che è a favore della guerra è inconcepibile in questo senso la guerra è davvero disumana che non c'entra niente col cervello umano altro che è un istinto dentro di noi è geneticamente queste sono tutte cazzate come come quelle sui vaccini i giovani devono impegnarsi a trovare il modo di sono bravissimi a connettere cento centomila un milione un miliardo di persone vediamo quante persone esprimono chiaramente la loro contrarietà assoluta alla guerra in questo senso si è soprattutto insomma agli inizi delle cosiddette reti sociali si è parlato tanto di una possibilità di utilizzarle per far arrivare di più appunto la voce dal basso e quindi tentare di cambiare le cose purtroppo poi però come dire forse parlo anch'io da più da anziana però comunque la sensazione è che questo non sia riuscito invece la sensazione è che anzi poi buona parte di queste reti siano servite anche per veicolare propaganda per veicolare messaggi messaggi anzi le cosiddette fake news eccetera credi invece che su questo tu ci riesci a vedere una quota di speranza o invece anche su questo poi si è trasformata in un'arma sostanzialmente sinceramente non lo so sinceramente non lo so io non sono un frequentatore dei social media così a un certo punto ho dovuto avere una pagina facebook perché l'aveva fatta qualcun altro perfetta buona fede l'aveva fatta qualcun altro usando il mio nome una persona bravissima che poi abbiamo incontrato ma gli avevano detto guarda però tirati da parte allora è andata avanti ma se no non non sono assolutamente un intenditore non capisco niente però ad esempio quando vedi i politici come la usano sì quando vedi i politici ormai voglio dire la politica si fa con i twitter ma anche quando quando vedo i commenti cioè io so che se io adesso sono un sacco di mesi che non scrivo sulla mia pagina facebook perché so che se io dovessi scrivere anche che oggi fa caldo si scatena la solita schiera di cani rabbiosi a soldati di proposito per cui io vengo a sapere anche cose interessanti tipo che ho una villa a Monte Carlo ma ne ho una anche in montagna sopra che io contrabbando droga attraverso i barconi dei rifugiati sì e però quando vado nei paesi asiatici faccio il pedofilo e varie amenità del genere alle quali ovviamente uno non risponde al massimo se possibile può denunciare uno ma insomma ecco io con quella roba lì veramente mi sembra diventata la pattumiera dell'intelligenza dico ma andiamo cauti che insomma se vuoi è lo stesso discorso rispetto a qualsiasi novità pensa alla televisione la televisione ha fatto delle cose straordinarie ha insegnato a leggere gli italiani a scrivere però ha anche prodotto è un problema di qualità sì ma anche di dosaggio voglio dire che l'aspirina è un farmaco straordinario però se ne prendo un chilo anziché un grammo muoio allora io sono sempre piuttosto cauto rispetto alle nuove tendenze così quelle fulminanti quindi insomma dipende dall'uso che se ne fa un po' come per tante cose e tornando invece al discorso della medicina poi che è da lì che siamo partiti il fatto una delle cose insomma credo che personalmente poi mi ha sempre colpito anche è il fatto di vedere come Emergency sia una delle poche ONG che poi lascia effettivamente i propri ospedali alle persone poi che cura e questo è qualcosa che non avviene spesso ci sono poi c'è un ospedale che ti sta ora sappiamo che insomma c'è l'ospedale in Uganda che ha progettato per voi Renzo Piano che sta per essere ultimato ma c'è un ospedale che ti sta particolarmente a cuore e nel quale come dire la parte tecnologica medica sicuramente è importante ma c'è anche un lato effettivo devo dire che io sono molto molto affezionato a tutti i nostri ospedali per ragioni anche diverse sono molto affezionato al centro di cardiochirurgia di Khartoum perché abbiamo sfatato un tabù che fino a pochi anni fa si diceva che bisogna andare per aiutare in Africa poi mi viene in mente che noi sono più di 25 anni che li aiutiamo a casa loro ma insomma il tabù era che bisognasse andare in Africa a portare roba dal terzo mondo roba di scarto gli abiti usati i farmaci scaduti progetti come dire low profile che secondo me è una violazione dei diritti di quelle persone e noi ci siamo impuntati abbiamo voluto costruire un centro di cardiochirurgia in Africa a Khartoum cardiochirurgia perché è una delle discipline più sofisticate e complesse che noi siamo riusciti a sviluppare della quale anche loro dovrebbero avere diritto e perché in Africa nel continente africano non c'è un centro di cardiochirurgia di qualità aperto sette giorni alla settimana è gratuito per le persone abbiamo fatto il primo e di questo siamo orgogliosissimi però 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 se devo dire un ospedale è Kabul ma così forse proprio solo per per ragioni personali perché quando si diventa vecchi si diventa si vuol bene i propri ricordi insomma io a Kabul ci ho vissuto non continuativamente ma ci ho vissuto sette anni tra l'altro mi sono beccato la presa di Kabul dall'una parte la presa di Kabul dall'altra parte la ripresa di Kabul e noi sempre lì in mezzo per cui quello è il progetto in cui tornerei domani mattina e il prossimo invece la prossima sfida qual è? la prossima sfida intanto ce ne sono tante prima c'è questo l'ospedale in Uganda Renzo Piano e il suo team hanno fatto un lavoro straordinario l'ospedale è come doveva essere bellissimo poi sarà anche efficientissimo utilissimo intanto bellissimo perché perché la bellezza fa parte della cura perché io mi chiedo come possono guarire i malati in certi nostri ospedali l'avevo scoperto perché le finestre sono sigillate per impedire la gente di buttarsi giù sul pavimento di sotto l'ospedale di Renzo sarà finito a fine anno ci vorranno due mesi per equipaggiarlo insomma pensiamo primo paziente sarà aprile più o meno nel frattempo stiamo dando inizio a un altro progetto che è quello di un ospedale di chirurgia di guerra in Yemen a un 200 chilometri da Sana dove stiamo cominciando lavori di ristrutturazione che vorrebbero richiedere solo qualche mese e poi e poi ci piacerebbe poter fare di più per i nuovi schiavi per i migranti esatto abbiamo un grosso problema di risorse perché quell'attività che noi abbiamo fatto fino a quando abbiamo potuto è un'attività che costa 3, 4, 5 milioni l'anno dipende da come è organizzata però io credo che sia una delle priorità sicuramente oggi almeno in Europa credo sia probabilmente la priorità umanitaria o una delle così come lo Yemen e dall'altra parte ci piacerebbe poter fare tutto quello che siamo riusciti a fare secondo me è tanto rispetto alle nostre risorse se in futuro troveremo più aiuto dalle persone aiuto nel senso di banali risorse economiche perché tu puoi usare bene i soldi puoi curare bene le persone non hai bisogno di fargli l'antibiotico per tre mesi perché non prendono infezioni ma comunque c'è un costo direi che comunque insomma ne abbiamo cioè non è che siamo invece per quanto riguarda perché spesso adesso non so immagino ti sia capitato tante volte di sentirti chiedere soprattutto magari dai più giovani cosa posso fare e forse è una cosa che bisognerebbe anche far passare che lavorare nella cooperazione soprattutto quando si lavora su progetti medici come sono quelli di emergency di alto livello è far capire che è una professione che non è volontariato sì è una professione ed è una professione impegnativa ma come dire si può fare tanto si può fare tantissimo io in questo momento chiederei ai giovani non solo di dare una mano emergency con un po' di egoismo ma ma non è egoismo per me perché io ma è per per aiutare tante persone che veramente cioè noi non immaginiamo che vita vivo non l'immaginiamo cerchiamo di medesimarci in qualche modo ma non fino a quando non lo vedi fino a quando non lo vedi però credo che i giovani dovrebbero e potrebbero riuscire a elaborare grazie anche alle nuove tecnologie nuovi strumenti per dare forza all'opinione del pubblico l'opinione delle persone cioè le nostre opinioni che non sono esattamente quelle faccia di merda dagli la negra scendi dal tram bastona questo butta fuori per favore io voglio pensare che anche i giovani italiani che sono giovani oggi abbiano voglia di vivere in un mondo più tollerante più bello più sereno più civile insomma questa cosa può e a giudicare insomma dalle persone che sono qua sicuramente abbiamo una base di partenza c'è anche perché c'è una normale direi che c'è umanità esatto c'è tutta insomma una parte del paese che va avanti e che studia quindi possiamo almeno su questo forse su questo essere essere più ottimisti ma ok quindi insomma ci lasciamo con con questa con questa speranza io lascerei con questa speranza ma ecco ricordiamoci una cosa delle utopie che le utopie sono cose belle per definizione nella parola di utopia c'è dentro un senso di buono di utile di bello non seriamente utopia significa una fantasticheria una cosa non realizzabile ci fossero stati i sondaggi 300 anni fa in molti anche educati avrebbero detto che la schiavitù era una condizione normale dell'uomo e quindi che l'abolizione della schiavitù era un'utopia e sbagliavano vorremmo pensare all'utopia dell'abolizione della guerra cioè a come trasformare quel desiderio in un progetto perché non ci sarà il giorno in cui verrà comunicato da miliardi di altoparlanti basta la guerra è abolita ci saranno tanti giorni uno dopo l'altro in cui si faranno cose per dare più peso alla volontà di pace delle persone e per dare più più voce a quelli che non predicano l'odio ma che vogliono trovare un modo di convivenza che garantisca un futuro per tutti grazie ragazzi se avete qualche domanda e se magari qualcuno esatto se qualcuno ha qualche domanda le raccogliamo non siate timidi allora a un certo punto ha citato il discorso di diciamo alzare la voce dal basso far sentire un attimino il desiderio di abbandonare i desideri malsani come la guerra il razzismo eccetera ma prima di parlare dei vertici della politica cioè io penso alle persone che ho vicino spesso questi desideri queste utopie tra virgolette cadono su orecchie sorde cioè alla gente di queste cose o almeno ad alcune persone non frega nulla e è utile cercare di trapanare le orecchie sorde o è meglio cercare da altre parti perché a volte mi trovo completamente spaisato di fronte a certe uscite di persone ecco grazie ma io non lo so cosa sia meglio credo che se va nella direzione di promuovere una cultura alternativa alla guerra tutto vada bene tutto vada bene bisogna cercare di far capire alle persone che qui non stiamo parlando di politica o meglio stiamo parlando della forma più alta di politica che è qual è la condizione dello stare insieme visto che la maggior parte di noi ha scelto o gli è capitato insomma viviamo associati sono pochi gli eremiti e l'unica maniera per garantire una vita associata di tutti è quello di definire regole di comportamento valide per tutti e qui torniamo all'idea delle Nazioni Unite anziché degli Stati Nazionali quello che bisogna far capire è proprio la necessità di un pensiero nuovo che deriva dall'aver messo a punto la possibilità della nostra autodistruzione cioè quello che quando Einstein scriveva noi abbiamo costruito la bomba atomica ma un topo non costruirebbe mai una trappola per topi diceva una cosa profondissima conoscete altre specie che hanno fabbricato la possibilità di non esistere più allora quello non è un problema di destra o di sinistra è un problema che noi abbiamo ormai disponibili queste tecnologie fruibili e non basterebbe neanche il disarmo totale perché anche col disarmo totale noi abbiamo la conoscenza abbiamo il know-how di come si fa e domani mattina qualcuno potrà mettersi in mente di fabbricarsi la sua piccola atomica qui in un comune del vicinato e l'unica cosa che ci può salvare è un salto di cultura è capire che non possiamo più permetterci di ammazzarci l'un l'altro perché abbiamo già visto un po' di decenni fa come anche un conflitto iniziato in un modo iper tradizionale addirittura con le parate che passavano i posti di confine suonando si è finiti con Hiroshima questo perché perché la guerra è una bestia che non controlli ogni pretesa di controllare la guerra è come ogni pretesa di abbellire la guerra di renderla più tollerabile meno crudele come diceva sempre quel mio grande amico che io ammiro molto che si chiamava Albert Einstein la guerra non si può umanizzare la guerra si può solo abolire i politici non ce l'hanno fatta i circoli intellettuali in cui è rimasta confinata fino ad oggi la battaglia per l'abolizione della guerra non ce l'hanno fatta io spero che le persone possano farlo se qualcuno trova il modo di accendere il cerino non diciamo una miccia se no ho una domanda da questo lato che si è già pernotata qua sulla sinistra salve sono Amalia Mandiello di Electroinfo lei ha scritto un libro che si intitola non si sente lei ha scritto un libro che si intitola Paffagalli Verdi che è una vera e propria cronaca della sua esperienza di chirurgo di guerra e quindi ha toccato con mano cosa significa vedere la sofferenza di queste persone dei bambini sia fisica che psicologica e la mia domanda è visto che ci troviamo appunto al Campus Party dove la tecnologia rappresenta il tema principale e sa meglio di me come la biomedica in particolare negli ultimi anni abbia fatto passi da gigante per quanto riguarda le protesi la loro progettazione la loro realizzazione Emergency a che punto è per quanto riguarda appunto l'utilizzo di queste nuove tecnologie ma soprattutto come ha visto cambiare proprio il rapporto con la tecnologia all'interno di Emergency nei suoi tanti anni di esperienza grazie beh sai dipende dai dal tipo di intervento di progetti che fai nell'ospedale di Emergency di Cardiochirurgia ci sono tutte le non voglio dire gli ultimi gadgets perché quelli non mi piacciono ma insomma c'è tutta la tecnologia che serve e quella che è utilizzata nei grandi centri a livello internazionale niente di più e niente di meno in altri settori l'uso della tecnologia è altrettanto utile come può esserlo per esempio nel campo riabilitativo considerando però le difficoltà maggiori con l'aumentare della della sofisticatezza delle delle protesi dei meccanismi perché poi vanno anche mantenuti ci sono altri campi dove la tecnologia è entrata poco e entrerà poco la chirurgia di guerra per esempio ma dove più che la tecnologia o lo sviluppo tecnologico che tutti oggi ricercano dove si può riconsiderare lo sviluppo clinico perché noi rischieremmo altrimenti di trovarci in un futuro sto esagerando per dare l'idea in cui in teoria riusciremo a curare tutte le malattie in pratica i malati crepan tutti perché non c'è un medico che sa riconoscere la malattia è il rischio della telemedicina personalmente mi tirerò insulti ma io sono dell'idea che se si toglie il rapporto medico paziente la medicina fa così è un po' come se in formula 1 il pilota scendesse dalla macchina devo dire che per fortuna noi non abbiamo bisogno della tecnologia esasperata questo facilita un po' il nostro lavoro ho una domanda da questa parte di qua buonasera lei prima ha detto che una società come la nostra che ha ripudiato la guerra almeno a livello teorico ma a livello pratico la continua a fare ha come destino l'estinzione o comunque una fine non buona diciamo ma quello che le volevo chiedere io una società di questo tipo non si merita questo forse e come seconda domanda volevo chiederle lei ha prima detto che cosa hai detto non si merita questo se una società di questo tipo che continua a fare la guerra nonostante l'abbia ripiudata a livello teorico si merita questa approfitto per fare un'altra domanda lei prima ha detto che quasi la totalità delle persone sono contro la guerra come giustamente credo anch'io sia vero soltanto i politici continuano o comunque i capi di governo continuano a fare la guerra nel mondo ma queste persone che sono a capo politici eccetera non provengono comunque dalle persone quindi come possiamo evitare questa cosa se comunque chi governa chi governerà in futuro viene comunque dal popolo da quella parte che come dice lei ripudia la guerra io penso ci siano molti modi di affrontare la questione personalmente non me la sentirei di eleggere nessun politico che non abbia espresso chiaramente il proprio rifiuto della guerra e non voterei per nessun politico che la volta prima mi ha detto sì 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 poi dopo l'ha fatta per capirci purtroppo la coscienza politica e civile prima ancora della coscienza direi l'informazione è una cosa non troppo diffusa specie da noi è facile ridere sul fatto che negli Stati Uniti quando si era la vigilia della guerra in Iraq solo il 7% della popolazione sapeva dov'era l'Iraq dati diffusi dalla CNN alla televisione americana io l'ho sentito ero a Pittsburgh in quei giorni uno resta impressionato dice come tuo paese sta per bombardarne un altro e 7% di voi sa dove si trova anche qui da noi le cose non sono molto diverse ci sono anni e anni che non si investe sulla cultura sulla ricerca sull'istruzione poi possiamo anche far finta nasconderci sotto l'ala e non dircelo ma decenni di mortificazione dell'istruzione della cultura della ricerca visti quasi come se fossero gli esami complementari all'università riproduce una popolazione di ignoranti non c'è alternativa non c'è alternativa riproduce la popolazione che incomincia ad avere difficoltà anche con la propria lingua mi diceva un amico pochissimo tempo fa che la maggioranza degli italiani ha difficoltà a fare lo spelling del proprio passaporto al telefono quando chiamano da un call center perché non hanno abbastanza vocabolario questo è il risultato di una politica di questo genere sul lungo termine è chiaro che se non si cambia nel mondo dell'istruzione della ricerca della cultura soprattutto investendo sui giovani è per l'utile investire su di me se non si cambia lì io non vedo grandi prospettive da questo lato lato sinistro ho una domanda come ti chiami io sono Aida la mia domanda si riconnette alla questione dei fenomeni migratori dall'Africa verso l'Europa e quello che vorrei chiedere è se allora ci sono spesso sempre dei proclami della serie aiutiamoli a casa loro ma in realtà questi sono inesistenti per quanto riguarda le popolazioni locali e penso che Emergency lo sappia per cui quello che volevo chiedere è se secondo lei sia praticabile a livello europeo degli investimenti nel settore medico al posto di aiuti umanitari fantasma e come sia possibile farlo? Beh certamente è possibile investire nel settore medico però quella parola lì investire che se c'è una cosa di cui avremo bisogno tutti a parte i casi di chi gli viene il coccolone resta lì o finisce sotto un tir ma direi che la cosa più probabile è che ciascuno di noi capiti nel corso della sua vita di aver bisogno di cure mediche e credo che siamo tutti d'accordo che sia meglio che le cure mediche siano di qualità e non robe da sarlatani non la cura di bella allora nasce una domanda ma se della medicina abbiamo bisogno tutti e se ne abbiamo bisogno della medicina di qualità perché non farla gratuitamente per tutti è un dovere dello Stato dovere che peraltro lo Stato si fa pagare in anticipo attraverso le tasse eccetera eccetera ma è un dovere il garantire la salute dei propri cittadini e allora prima ancora di investire nella medicina in Africa per stimolare il business di alcune aziende di settore particolarmente introdotte forse sarebbe meglio cominciare a risanare la medicina qua a eliminare il profitto della medicina ad avere una gestione nazionale della medicina e non regionale che moltiplica i costi in un modo enorme e crea discriminazioni e sarebbe meglio dire che sulla medicina non si può perché non è lecito perché non è bello perché non è giusto perché non è umano fare profitto io sfido un medico a dire che si sente bene quando quel poveraccio lì soffre come un cane così lui deve visitarlo un'altra volta e giucciare gli altri soldi e siamo a livelli di crimini forse una strada potrebbe essere quella lì ma non mi sembra la strada che si stia seguendo certamente non è quella che noi abbiamo imboccato negli ultimi 30 anni con una grossa accelerazione nei secondi 15 avevamo uno dei migliori sistemi sanitari del mondo adesso abbiamo un sistema sanitario che fa buchi da tutte le parti e che sta in piedi grazie alla buona volontà di infermieri e medici che nonostante la politica sanitaria continuano a fare con coscienza il loro lavoro è solo grazie a loro che ancora teniamo botta perché se potessero il sistema l'avrebbero già svenduto smantellato diviso e messo sugli scaffali in vendita come stanno facendo in Inghilterra per esempio abbiamo un'altra domanda qui poco fa ho sentito nella domanda del ragazzo a fianco a me dire società allora io penso che non sappiamo cosa sia la società non abbiamo idea ci riferiamo a qualcosa che in realtà è tutti noi in ogni momento e lei diceva che un'azione alla volta si costruisce un cambiamento per la guerra allora non tutti sono innovatori nella storia quindi io non mi immagino che le soluzioni che ci saranno saranno fatte da tutti i ragazzi di tutta l'Italia però è vero che ogni giorno in ogni istante noi spesso non siamo attenti a tante azioni io credo che una gran parte di quello che possiamo fare sta nell'attenzione in quello che succede ogni istante ogni momento che è diverso sempre e le chiedo cosa crede che l'attenzione se anche per lei è un valore possa fare non sono d'accordo con questo rilievo vale anche come dire nella nostra vita sociale politica non prestare attenzione a certi fenomeni è molto pericoloso io ricordo che quando ero ragazzo anche quando ero ragazzo io c'erano i tram se un giovane si sedeva sul tram e non andava a posto a un anziano in piedi gli veniva subito fatto notare da qualcuno e devo dire che succedeva una volta ogni tanto succedeva una volta ogni tanto che qualcuno magari straniero venisse schiaffeggiato su un tram e la cosa andava in prima pagina dei giornali oggi contiamo quanti episodi del genere avvengono e anche più violenti di così quanti ne avvengono ogni giorno nell'indifferenza generale per lo più e perché e perché non si è stati attenti quella volta là quella volta là quella volta là quella volta là perché si è giustificato in quel modo in quell'altro modo perché si è sempre trovata la scusa per per farsi fatti propri per è così che cambia una società è così che cambia una società non pensate che in Germania negli anni 30-40 ci fossero come dire i militari tedeschi cattivissimi e tutti gli altri bravi e buonissimi no era diventata una società che aveva accettato un modo di comportarsi una filosofia più spesso una una violenta filosofia e le cose le si digerisce a poco a poco è come la guerra no? nel 1991 come? l'Italia va in guerra contro la Jugoslavia ma diciamo siamo mati l'Italia ripudia la guerra discussione la Costituzione sì no adesso ma chi le dichiara più le guerre? prendo e tiro e nessuno dice niente ma si chiamano missioni militari all'estero e tanto per per far capire l'intelligenza che abbiamo nello discernere quale di queste missioni con quali compiti ci sembra ragionevole di solito si vota un decreto che vale per tutte le missioni decreto missioni si chiama 007 insomma allora c'è l'ultima domanda vedo un ragazzo lì questo intervento avrà una domanda con due constatazioni la domanda è cosa possiamo fare che si riallaccia a tutte le varie domande e la constatazione è che si è parlato dei singoli individui della responsabilità di chi ha il potere di cliccare quel bottone e il concetto di tecnologia che si è tradotto in certe sue parole con la conoscenza delle tecnologie e la potenzialità dell'applicazione di queste ultime e la domanda quindi si trova un'altra constatazione la tecnologia molte volte e in questo periodo cerca di portare o sta portando a un momento del soggetto come individuo e non come società come accennava la domanda precedente soggetto dell'individuo e quindi porta a un movimento individualista e si riallaccia al suo ultimo intervento quello del dare visibilità e importanza degli atti che possono sembrare potenzialmente comuni come uno schiaffo su un tram o una cosa simile e poi si è parlato anche della cultura del salto culturale e finisce questa domanda di intervento che si ricollega al cosa possiamo fare che è una citazione di una persona una grande persona che l'hai citato che dice che la saggezza non è un prodotto scolastico ma è un prodotto che si raggiunge attraverso il percorso che si fa della vita e quindi la domanda è che cosa possiamo fare quali possono essere le nostre aspettative perché io ho tanti spunti come singolo da emergency li posso prendere e le chiedo se ci fossero altri suggerimenti ma sì la solita domandina facile alla fine cosa possiamo fare per cambiare il mondo avessi la ricetta l'avrei commercializzata raccolta fondi per emergency via la mia risposta è non lo so non lo so credo che sia una risposta normale per quanto mi riguarda lo è anche in medicina credo di aver risposto non lo so la maggior parte delle domande che mi sono state fatte non dai professori agli esami ma dai pazienti perché perché conosciamo poco di chi siamo di come siamo sappiamo come funziona circa il 10% del corpo umano tanto per dare un'idea quello che è importante non è sapere cosa fare io credo che la cosa più importante sia fermarsi e rifletterci ciascuno per conto suo poi magari con la fidanzata o con quattro amici al bar ma fermarsi e riflettere che cosa posso fare che cosa si può fare se ci si ferma e si riflette le idee di solito vengono perché io credo che non esista nessun problema risolvibile sono ancora della vecchia scuola di Michelangelo quando tu ti poni il problema vuol dire che la soluzione c'è già la statua è dentro la pietra insomma perché Egel non si pose il problema della fusione fredda era un cretino no non c'era soluzione e per quello non c'era ragione non c'era motivo e non si poneva il problema oggi c'è invece motivo di porsi il problema di come liberare la storia nostra collettiva dalla guerra prima che ci pensi la guerra liberarsi di noi questo è un problema sul quale riflettere se non riflettiamo su questo problema le idee non verranno fuori se ci riflettiamo magari troveremo soluzioni come dire anche fantasiose che si riveleranno il giorno dopo una cazzata o una mezza cazzata e poi modificheremo andremo avanti ma insomma la cosa fondamentale non è avere la ricetta in tasca è avere la voglia di capire la malattia e allora vogliamo salutare con un grandissimo applauso Gino Strada che ci ha trasferito tanto della sua esperienza grazie ancora veramente un onore per Campus Party averla qua grazie mille grazie mille ragazzi un annuncio importante per domani sera lo speaker delle sei Daniele Bigi non potrà